Marche la marea dell'anima di Alcide Pierantossi. Quando il mare Adriatico non recalcitra e ci sono belle onde dritte e giubilanti, i marchigiani sono dotati di una straordinaria intelligenza comica. Scherzano con tutti, provocano gli amici per gioco, impugnano la felicità della vita senza darsi pensiero di nulla. Se invece le onde si appianano e prendono un ritmo così monocorde da mesmerizzare i loro animi, i marchigiani, anche quelli che non abitano sulla costa ma a ridosso dei Sibillini o del Conero, anche i pastori del Piceno, che non si levano mai il cappotto nemmeno a luglio, sono presi da un'allegria languorosa. Ma apriti cielo quando la marea s'alza. Perché i marchigiani tumultuano insieme al fluttuare e rifluttuare dell'acqua, litigano e sono incazzosi. Un'iliade di suoni stregoneschi irrita i nervi dei contadini anziani, dei conciatori di pelli del Fermano e ovviamente di tutti i pescatori. Qua il mare funge da barometro delle condizioni atmosferiche dell'anima. È il luogo della fatalità, mentre la terra è il luogo dell'intermittenza, anche se non lo dice mai nessuno e le marche passano per la più placida delle regioni italiane. Qua l'acqua, come nelle isole più remote, è più importante della terra. E i vecchi sanno che il mare non è solo una fantastica tappezzeria azzurra sulla quale spiccano gli ermicolli, né una fonte di sostentamento e basta. È di più. È il mare che svetta sul paninsesto di spiagge calanchi e promontori, così come svettano, a volte, solo le cose che stanno in basso e per arrivare alle quali si deve scendere. E scendere, e scendere. Il paesaggio marchigiano è una foresta di simboli e credo possegga un suo specifico principio attivo, proprio come la mandragola, i funghi velenosi e il siero della vipera, i cui effetti sulla psiche sono poco interpretabili, somigliano a geroglifici in continua composizione. Sarà che il senso stesso delle proporzioni del paesaggio delle marche è simbolico, a causa delle tante valli che salendo e calando imitano il cammino del sole, dei pastori, delle stagioni e di tutte le cose certe della vita. Da bambino le attraversavo in autobus ogni estate per andare in colonia montana, a Monte Monaco, sotto la punta sempre innevata del Monte Vettore. Vedere Monsampolo o Castelli Lama da dentro, durante il tragitto d'andata, mi provocava una vertigine sinottica. I cartelli dicevano che le strade si chiamavano rue, ma erano fatte di basole come quelle di colonnella o di controguerra, le due di rimpettaie, i due diademi di pietra dai quali incomincia l'Abruzzo, le stesse basole abrustolite da millenni di sole. Tornato a casa, osservavo con più attenzione il digradare di queste colline incoronate di tetti che passavano di fronte alla finestra di camera mia, per rotolare senza stanchezza di gravità fino al porto di San Benedetto del Tronto. Dalle cime innevate di San Marco ai primi borghi verniciati di rame dell'Ascolano sono cresciuto di fronte alla visione di una discesa progressiva, con poche eccezioni, fino a mare, di fronte a un suicidio dei vegetali nell'acqua. È stato il primo spettacolo cui ho assistito, mentre le mie nonne, per indicarmi meglio la scena, squarciavano con il dito i velari del cielo. Quella è Monteprandone, dicevano, dritta davanti a noi, quella invece è Spinetoli e quella acquaviva. Il mare sta là sotto, dove non si vede più niente, e ci finisce dentro il fiume Tronto. Perché? domandavo io. Come perché? Perché i fiumi finiscono a mare. Perché? chiedevo sempre più spaventato. E le mie nonne? Ma come perché, Alcidino, mica possono finire nel niente. Hans Georg Gadamer, il sommo filosofo infatuato delle Marche, che veniva spesso in vacanza a San Benedetto, faceva lunghe passeggiate sulla spiaggia abbattuta dal vento per rigenerarsi nella contemplazione del mare di dicembre, senza altra protezione che un keyway leggerino. Professore, oggi è pericoloso scendere a mare. C'è una bufera. Lo scongiuravano le ragazze dell'albergo. Resti in camera. Scendere non è mai pericoloso, spiegò un giorno a me e al mio compagno di classe, Diego, che traduceva dal tedesco. Perché si può scendere solo sulla verità. La verità non sta in alto. Spiegò, con il più innocente, ma allo stesso tempo trionfante degli sguardi. E io vidi nel mare, tramite gli occhi centenari del filosofo, la possibilità di un bagno nell'oro dell'intelletto, nel vertice dell'immaginazione, ma anche un nemico. Cominciai a leggere e a scrivere. Marinavo la scuola e in treno raggiungevo una tappa qualsiasi del fermano, dove le spiagge sono corte e bordate da un binario che magnetizza il rombare delle motociclette truccate. Gli scogli sono bene installati sulla battigia e ci si dedica con facilità all'esercizio della solitudine. Di tanto in tanto, quel rombo di motori riappariva per rimbalzare sulle reni delle valli alle mie spalle e il binario ne asserviva il suono assorbendolo. Il silenzio tornava, il mare rifiatava. I miei sogni maturavano sull'umido della sabbia. L'odore del sale era fecondo, adatto a esaltare la portata dei miei pensieri che, come tutti i pensieri di un adolescente, erano senza rimedio. Alle mie spalle c'erano le casette di pedaso scaglionate sulla costa, sulle quali la luna d'inverno restava accesa fino alle nove o alle dieci del mattino. Che cosa assurda! A Marina d'Altidona una falesia tridimensionale, alta e pezzata di giallo-verde come quelle d'Egitto, si sbriciolava in un braccio di mare ricoperto dalla sua stessa ombra. Amavo Leopardi, nero ossessionato, meditavo sui suoi versi attraverso il turbine rapsodico delle onde. Che fai tu luna in Cile? Mi divertivo a storpiare le parole del mio eroe, il mio piccolo conte e il mio grande principe del mistero. E così nella mia mente fuggivo dal territorio marchigiano. Eppure sapevo che solo da Recanati o dalla sommità della falesia di Marina d'Altidona era possibile rivolgere alla luna una domanda così diretta. Che fai? Che fai, acqua del mare? Perché ti gonfi? Che fate, gorghi e spirali nel vento? I miei occhi si smarrivano dietro a voi senza vedere niente. Che fai, santuario azzurro della Madonna di Loreto? Come mi affascina la tua altezza aerea? Che fate, chiese, sinistri monasteri senza campanile, pomposi torrioni di guardia? Che fai, madonnina della rosa di Ostra? Dimmi che fai. È vero che i fiori che ti richiamo, anche se recisi, rimarranno freschi e sfavillanti per sempre? Che fai, madama Pasqualina detta Montesanta, viaggiatrice astrale di Civitanova Marche? È vero che Pasolini veniva a trovarti molto spesso e anche Fellini ti interpellava con regolarità? Domande enciclopediche, chimiche, inutili, in accordo con la religiosa tranquillità dei luoghi, in disaccordo con la mia voglia di scappare lontano e con il linguaggio segreto delle onde. Ascoltavo i Depeche Mode dalle cuffie. Di tanto in tanto una scossa emotiva dovuta a un frangiflutto mi faceva voltare verso gli Olmi e le stradine a picco sui calanchi e sapevo che le valli dall'altra parte erano forzieri di solitudine, protetti dal profilo delle colline. A volte una scossa più energica delle altre mi faceva sollevare di scatto e allora mi mettevo in cammino. Un'emenide o una ninfa nera emergevano da un'onda larga uscendo dall'imboscata e dandomi un calcio nel sedere. Scappa! Vattene via! Mi sentivo arare dentro da un terremoto di energia e mi ritrovavo a camminare senza una direzione precisa, solo in fuga dallo stesso mare che ero venuto a cercarmi. Così accade che un giorno mi avventurai per l'entroterra. Passeggiai da Marina ad Altidona fino ad Altidona Alta, simile a uno di quei zingarelli che da noi vanno di casa in casa a chiedere l'emosina, fumando sigarette senza filtro mentre studiano a testa alta le buffe facce delle nuvole. Ma io non chiedevo niente e non fumavo. Mi limitavo a spiare dalla strada appesi a un filo i panni che gocciolavano e si torcevano nell'aria gelata. Costeggiavo il fiume Aso in mezzo ai cespugli di biancospino e ai fusti di canna per lunghi tratti. Nel risalire sulla strada ero investito dalle penetranti zaffate di polenta che venivano dalle poche case abitate. Molte case erano in stato di abbandono da anni e quindi sdentate di porte, cieche di finestre, sgobbate di tetto, infestate dai rami dei castagni e dei faggi. Incontravo una contadinella, un passante, ma visto che il mare, anche se lontano, era in ebollizione, in nessuno di loro potevo trovare un sorriso o una parola. Solo una vecchia signora nei giorni di brutto tempo mi salutava sbracciando, si avvicinava al cancello e mi chiedeva della scuola. Ma era di origini romane, quindi non conta. Una volta passai davanti a casa sua, proprio nel momento in cui dei nuvolacci neri calavano all'orizzonte sul mare e un'aria cupa si stendeva sulle strade mischiandosi al fumo dei motori delle moto. Superai un tir parcheggiato in un viottolo fra la casa della vecchia signora e un bar tabaccaio dove due camionisti di Civitanova stavano facendo aggiungere due dita di anisetta al caffè delle dieci. La vecchia signora mi aveva visto arrivare da lontano e mi era venuta incontro dal giardino. Spense la cicca della sigaretta in un vaso, sollevò la testa verso le nubi, poi disse perché non mi leggi una bella poesia? Che fai tu luna in Cile? Dimmi che fai silenziosa luna? Declamai. Se la vecchia rideva forte, in modo diciamo sguaiato, le nubi scure diminuivano la velocità nel loro corso. Il mare laggiù assumeva un suono diverso, più morbido. Non era una mia impressione, accadeva davvero. Qua da noi neppure il più forte dei caratteri è sconnesso dall'espire della natura. La luna, sorella della solitudine, matrigna di tutti i mari del mondo, ma amica dei marchigiani, è sempre accessibile ai loro occhi. Lottava come una bestia per mostrarsi dietro quelle irrimediabili tenebre. Formicolava di bagliori, si affannava e tremava per emergere e riappropriarsi dell'unico reame, le marche, che abbia saputo sinceramente cantarla. Urlando, assumendo fisionomie sempre diverse, ridendo disordinatamente anche lei, finché il cielo si scosse scacciando le nubi addensate sullo sfondo, anche se questa fu una cosa assai strana. Perché il cielo non è la terra, di solito il cielo non trema. Grazie. 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 Grazie.